Lucio Ceccarello, sindacato autonomo, FALP-CISAL. Dal gennaio 2015 ci saranno dei brutti tagli per quanto riguarda anche, oltre ai lavoratori delle poste, i cittadini con la consegna delle poste alternate. Certo, succederà questo purtroppo. Abbiamo fatto una nostra valutazione in base al nuovo decreto di stabilità 2015 dove ci saranno purtroppo dei tagli che poste italiane dovrà poi, ricaduta sia sul personale che sul cittadino, dovrà tagliare in sostanza sul servizio universale. Mi spiego meglio, questo decreto praticamente che è passato al Senato prevede un ammanco, cioè una riduzione di 65 milioni in meno, quello che ci garantirebbe in sostanza un servizio universale. tradotto anche in termini di posti di lavoro, abbiamo fatto una nostra valutazione, verrebbero circa 20 portalettere in meno per quanto riguarda la provincia patavina. Però siamo anche preoccupati, vedendola in senso molto più ampio, anche per la cittadinanza che perderebbe quel servizio universale, cioè la consegna su cinque giorni. In sostanza questa consegna non potrà più essere effettuata su cinque giorni, ma a giorni alterni. Siamo preoccupati di questa roba tant'è che abbiamo chiesto un incontro, ho chiesto un incontro con il Presidente della provincia per controbattere e cercare di parare il colpo in sostanza. Cosa vi ha detto, Soranzo? Vi ha già ricevuti? Non ci ha ancora ricevuti. Noi intanto nel frattempo avremo un incontro con l'amministratore delegato nella prima decada del mese di novembre, dove già da l'acqua, il piano di impresa quinquennale, sapremo purtroppo quali saranno i reali tagli che verranno fatti nella provincia patavina e nel Veneto. Dico nel Veneto, e mi soffermo, sottolineo che ho già una regione bistrattata perché il taglio sul personale delle zone è già stato fatto nel 2013. Quindi tant'è che i nostri colleghi di Portalettere hanno chiesto la revisione delle zone perché non ce la fanno più con i carichi di lavoro che hanno, senza tener conto che quest'Italia hanno creato purtroppo dei servizi, un problema ai servizi e quant'altro, e non solo a tutti.